Musica Sono qui nel mercato del pescato a poter portar calamarro e oggi comeremo questi calamarro relleno. Tu facci la regola. Ora questo calamarro sta preparato per rellenarlo. E poi seguiremo a vedere la preparazione della cucina. Il fatto che non ci piace, è che qui si trova il pescato fresco. Il pescato è più facile da fare. Siamo in un'unica Qui ci troviamo le varie vievi, sono varie di acero e ancora non speriamo che il vino sia siciliano. E quindi possiamo dire che anche il domingo è aperto, così le persone possono abbracciare del vino buono. Stiamo cortando la cebolla perché non serve sia per friggere i calamari o sia per il rieno di calamari. La regola alla mia ex moglie ci si attacca perché i suoi sono dormiti, non sono ricette. E quindi, per basso friggere, io utilizzo questo sistema, che pongo la cebolla e un po' di acqua. E un saltè, un po' di acqua, un po' di acqua, un po' di acqua. E qui, se pongo il paciente di oliva perché noi qui in Sicilia abbiamo un paciente di oliva buono. Guardate questa cucina, questa cucina è così, cortata. perché è la cucina che mia abuela usò di una vita quando cuidava a suo marito, a la casa e a sua figa. Asi. Cosa? Cosa?